Versailles di nemici appistati! In volo! La squadra nemica ha catturato l'area! Mira precisa attivata! Ricarica veloce attivata! No! La vera mica di frutta! SILURI NEMICI AVVISTATI Abbiamo distrutto una nave nemica La nostra squadra ha catturato l'aria SILURI NEMICI AVVISTATI Abbiamo colpito il nemico Versaglio agganciato Ricarica veloce attivata La situazione è sotto controllo Ben colpo Siamo sotto attacco Versaglio colpito Ci hanno colpito Siamo sotto attacco SILURI Non aveva a vuoto Ci hanno colpito Ci hanno colpito La nostra squadra ha catturato l'aria Siamo sotto attacco Ci hanno colpito Siamo sotto attacco SILURI NEMICI AVVISTATI SILURI NEMICI AVVISTATI Ricarica veloce attivata Ricarica veloce attivata SILURI NEMICI AVVISTATI SILURI NEMICI AVVISTATI SILURI NEMICI AVVISTATI Grazie a tutti.